Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io mi chiamo Rossella Pani, mi insegno alle persone come connettersi con l'Arcangelo Michele e gli angeli della coscienza michaelica e mi trovo qui con Annalisa. Ciao Annalisa, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Rossella. Con Annalisa abbiamo appena concluso il corso di sei settimane, vero Annalisa, dove hai imparato a connettersi con l'Arcangelo Michele e con gli angeli utilizzando tre livelli, tre sistemi diversi, la lettura delle carte, la scrittura espirata e la connessione diretta. Vediamo un po' come è andato questo percorso. Annalisa, raccontaci un po'. Allora, io seguo Rossella da tantissimi anni e ho imparato da lei tantissimo sull'Arcangelo Michele e sulle preghiere che mi hanno aiutato in un periodo molto difficile della mia vita e la ringrazierò sempre. Questo ultimo periodo ho sentito la chiamata di imparare a approfondire di più e ho cominciato con lei questo percorso di approfondimento sulle connessioni angeliche. Abbiamo cominciato a maggio con incontri settimanali e attraverso tutte queste tecniche e le preghiere sono riuscita a sbloccare tantissime cose dentro di me e nella situazione familiare. Ci sono state appunto tante sincronicità che mi hanno aiutato a capire qual è il mio obiettivo finale della mia vita, il mio percorso spirituale. E poi cosa devo dire? Ho ritrovato la gioia. Rossella è fantastica nel modo in cui insegna, molto semplice nell'apprendimento ma anche facile nella comunicazione e poi ci sono tanti esercizi pratici, quindi c'è molta pratica. Mi è piaciuto tantissimo il percorso, non vedo l'ora di applicarlo, di fare tante letture, tante connessioni con l'Arcangelo Michele e lo sento già vicino a me e lo raccomando a tutti perché l'Arcangelo Michele aiuta tutti e anche Rossella sei fantastica. Sei troppo forte, Annalisa. Allora, la cosa bella è che tu sei, eri già un canale, nel senso già ricevevi dei messaggi, quindi fare questo percorso ti ha aperto ancora di più, quindi adesso i messaggi io ho visto proprio quando hai iniziato con le carte che già eri bravina, però adesso i messaggi proprio fluiscono liberamente, sei proprio un canale potentissimo a mio parere. E quindi questa esperienza ti ha aperta a livello di connessioni angeliche, però ti ha cambiato anche la vita perché lo stavi dicendo, queste preghiere ti hanno portato proprio in un livello diverso, vero? Sì, mi hanno cambiato la vita perché appunto come dicevo in questo periodo stavo riflettendo appunto sul mio percorso, mi sono arrivati dei messaggi potenti, anche dei messaggi insomma durante un periodo delle vacanze in cui proprio mi hanno fatto vedere qual è il mio percorso, qual è il mio obiettivo, con dei messaggi chiari, Cioè passo davanti a una strada, vedo la targa, Michele, con scritto Michele, è grande, quindi dico sì, allora sto andando sulla strada giusta, oppure sto più attenta alle intuizioni, ai messaggi che mi arrivano durante la giornata, perché anche facendo le preghiere giornalmente riesco, sono più connessa, quindi ricevo queste intuizioni che poi mi guidano a prendere le decisioni giuste giorno per giorno. Che bello, poi tu sei una che comunque hai una tua attività, un tuo lavoro, però pratichi anche aiuti le persone, insegni il reiki, cioè sei una maestra di spirituale, no? E comunque il tuo sogno è anche quello di crescere, di espanderti e così via, e quindi pensi che questo corso ti potrà aiutare? Sicuramente tantissimo, perché come già dicevi io le letture con le carte avevo, già le facevo da qualche anno, però ecco con la connessione diciamo diretta, mi aiuta proprio ad acquisire più fluidità, ma sì, più dimestichezza proprio nel lasciare fluire i messaggi che arrivano direttamente, senza l'ausilio di carte o insomma, proprio arrivano. Mi piacevi le carte, quindi tu adesso anche con le preghiere hai imparato, io sono stata anche un pochino, non se è vera, cioè precisa sul discorso della protezione. Per la lettura, ma anche la protezione per la casa, la protezione insomma, noi stessi, tutti i giorni, la mattina ci svegliamo, ci alziamo, prima di uscire di casa, proteggiamo la nostra casa, i nostri familiari, affrontiamo la giornata più serenamente, sapendo che i nostri, insomma noi stessi, i nostri cari, la nostra casa è protetta da energie negative o da qualsiasi cosa e proprio come abitudine la mattina mi sono messa proprio il link che io mentre guido la macchina mi devo recitare la preghiera di protezione giornaliera, quindi quello non manca mai adesso. Anca mai, esatto, che bello, che bello. Ascolta, Annalisa, quindi tu hai anche intenzione, mi hai detto, di frequentare il corso di guarigione, il corso di riequilibrio energetico, magari faremo un'altra intervista più avanti. Poi mi farebbe piacere veramente in futuro collaborare con te nei miei corsi dal vivo in presenza, perché ti trovo una persona che merita veramente, assolutamente. No, ne parlo, ne parlo al pubblico di YouTube, perché comunque se vogliono contattarti, se vogliono ricevere delle letture da te, tu sei una persona che comunque puoi offrire anche questo tipo di servizio, no? Giusto? Certo, 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 con piacere, con piacere. Mi potete, sì, allora ho un sito web, si chiama Ornelia Healing, quindi se mi volete contattare potrete trovarmi su Google, scrivete Ornelia Healing. Benissimo, perfetto. Allora io ti ringrazio, Annalisa, grazie infinite, veramente sono onorata di aver lavorato con te, sei un'anima purissima, bellissima e un canale pulito, quindi veramente grazie di tutto. È stato un piacere e raccomando a tutti seguire i corsi con Rossella, perché vi cambierà la vita, in meglio. Grazie cara, buona giornata, a presto, ciao.